Rossella Forte aveva solo 23 anni, era una ragazza di Castelpetroso, ha perso la vita nella sua utilitaria Suzuki, schiantandosi contro un SUV Rexton, lungo la discesa sulla statale 17 che dal santuario porta Isernia. Ancora incerta la dinamica del sinistro, saranno i carabinieri a stabilirla, intanto si sa che la ragazza ha perso la vita sul colpo, mentre l'autista del SUV se l'è cavata praticamente senza ferite, rimanendo illeso. Il drammatico incidente, che ha provocato una lunga paralisi della circolazione sulla direttrice Campobasso Isernia, si è verificato intorno alle 19, quando in una curva le due auto si sono scontrate tra loro. Probabilmente l'asfalto, reso viscido dalla pioggia, è stata la maggiore concausa dello scontro frontale tra le due macchine. Chiaramente ha avuto la peggio l'utilitaria, guidata dalla 23M di Castelpetroso, rimasta uccisa sul colpo. Sul posto i carabinieri per i rilievi, il 118 disegni a soccorso e i vigili del fuoco, che hanno dovuto lavorare a lungo per estrarre il corpo della ragazza dall'auto. Appena la notizia dell'incidente si è diffusa nel piccolo paese, sotto il santuario, i familiari e gli amici della giovane vittima sono arrivati sul posto. Una tragedia incredibile, che ha scosso tutta la comunità e colpito duramente una famiglia segnata dalla tragica fatalità.